Le sugar baby sono sicuramente il punto di forza dell'assortimento di NUNEMS, sono il nostro orgoglio, sono angurie che si sono affermate soprattutto per le loro caratteristiche organolettiche eccezionali, per il colore della polpa, per la croccantezza della polpa, per il sapore, per il grado BX, ma anche per l'aspetto esteriore, per la colorazione molto accattivante della buccia. NUNEMS è un'azienda leader a livello globale nel settore delle sugar baby e vi basti pensare che 8 angurie su 10 della tipologia sugar baby sono di NUNEMS. Io vi presento due varietà che vedete in questa slide, la Stellar e la Style, sono entrambe delle midi, con una pezzatura di 4-6 kg, la Stellar più precoce, adatta per la coltivazione in serra, in pieno campo precoce, la Style invece più adatta per una coltivazione in campo aperto. EASF, we create chemistry.